eh, buona guarda papiro fratelli mi fa parlare di più papiro fratelli siamo a me bravone poi mi fa parlare mi fa parlare d'unico unico di due fratelli sono stati in giro ma poi è un'altra messa è la campione il nostro papiro fratelli di canale di far campione del mondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.